buongiorno ragazzi benvenuti in questo video youtube che aspettavo da veramente tanto tempo perché perché è stato un percorso lungo durato più di quattro mesi che mi ha portato a perdere 22 kg passare da 102 kg è una body fat circa del 20 per cento a 80 kg per la mia prima competizione per entrare nel peso a una percentuale di massa grassa circa del 5 per cento una composizione di massa grassa che non ho mai raggiunto in vita mia prima di tutto iscrivetevi al canale attivate alla campanella non perdetevi le notifiche di tutti i video che posto soprattutto perché nei prossimi giorni iniziano le competizioni precisamente la prossima settimana in pro league la prima il 7 ottobre a milano dove gareggerò all'olimpia amateur nella categoria meno 80 kg mentre la settimana successiva volerò a madrid per l'arnold classic dove gareggerò invece nella categoria meno 85 kg seguiranno fino all'inizio dicembre tante altre gare a cui prenderò parte quindi non perdetevele perché sarà veramente un percorso entusiasmante banda le ciance veniamo a noi ovviamente vi starete domandando ma come ha fatto in quattro mesi a perdere 22 kg e soprattutto a trasformare il suo fisico senza però allo stesso tempo perdere grossi volumi muscolari infatti se confrontiamo le foto del prima e del dopo vedrete che paradossalmente in alcuni distretti muscolari come per esempio le gambe sembra addirittura più grosso partiamo da un assunto importante io ero sicuramente con una percentuale di massa grassa alta a 102 kg ma comunque aveva sotto una buona base muscolare questo cosa significa questo mi ha permesso di trovarmi comunque in un range molto alto di calorie sebbene io lo scorso anno quando greggiato la mia prima esperienza ho commesso dei gravissimi errori che spero di non commettere più ovvero subito dopo le gare circa 79 kg 80 kg dato il grande periodo di stress dato un periodo veramente molto difficile a livello mentale vi dico solo che in poco più di un mese ho messo circa 20 kg ora direte ma 20 kg di che cosa? sì per lo più sono liquidi una minima parte di massa muscolare perché il muscolo è depletato di glicogeno quindi si va di nuovo a riempire ma a grossa parte ho messo grasso e quindi ovviamente sono andato a rovinare tutto quel vantaggio che avrei potuto avere da un off season perché? perché un corpo specialmente dopo un lungo periodo di cut è super recettivo al glicogeno agli zuccheri quindi se sfruttiamo una fase di rebound di sovracompensazione in maniera intelligente alzando gradualmente i carboidrati mettendoci subito in norma calorica e poi magari con un surplus abbiamo la possibilità di crescere tanto senza ingrassare oppure ingrassare comunque in minima parte ma le cose vanno fatte con intelligenza cosa che io non ho fatto ma quest'anno prometto di non fare la stessa cosa perché ho grossi obiettivi per l'anno prossimo e voglio fare le cose fatte per bene in ogni caso resta il fatto che comunque quest'anno ho costruito tanto sebbene abbia messo anche della massa grassa addosso e questo mi ha permesso comunque di arrivare sopra le 4000 calorie sebbene mangiasse sporco l'ammetto ho fatto un po' schifo però diciamo sono partito poi il 6 maggio dà 102 kg dà una percentuale di massa grassa molto alta ma comunque con muscoli sotto e calorie molto alte ora sincerità ragazzi il percorso che io ora vi vado a raccontare è un percorso volto comunque a delle competizioni internazionali ok? non stiamo parlando del fisico da spiaggia parliamo quindi di un percorso dove c'è un'integrazione sotto che mi permette di poter spingere di più sull'acceleratore cosa che non potrei assolutamente fare se non avessi integrazione sotto supplementazione sotto perché? perché se io non avessi la supplementazione sotto e portassi il mio fisico all'estremo in così poco tempo la quantità di massa muscolare che andrei a perdere sarebbe abnorme e quindi praticamente oltre a perdere tanta massa grassa perderei tantissimi volumi muscolari è normale che una parte li ho persi anche ora ma sicuramente la supplementazione mi ha permesso di mantenere grossa parte dei guadagni di mantenere i carichi in allenamento di mantenere il focus e di mantenere l'energia questo almeno fino a un paio di settimane fa adesso sono anche abbastanza cotto in allenamento come è normale che sia quindi sicuramente la base è stata la supplementazione sotto che mi ha aiutato e mi ha permesso sin dal primo momento di fare un taglio netto io ho deciso di non fare tagli graduali di non iniziare con una reverse o di iniziare gradualmente a tagliare le calorie ma di tagliare di netto le calorie sono passato subito sulle 2000-2002 riducendo a un passo massimo libero a settimana e ovviamente con molti pochi carboidrati all'intorno ai 250-300 grammi di carboidrati grassi bassissimi questo perché? perché comunque in un atleta supportato la quantità di grassi non è necessario sia troppo alta perché non ce n'è bisogno cosa diversa invece su un atleta che non lo è dove la percentuale di grassi è fondamentale soprattutto per mantenere nel range più o meno fisiologico nei limiti il testosterone anche se sappiamo che comunque non è possibile se voi guardate le analisi del sangue di un soggetto natural in preparazione soprattutto in una fase finale di tiraggio estremo vedrete che i suoi livelli di testosterone sono pari a zero e questa aperta e chiusa parentesi vi fa anche un po' capire quanto possa essere anche un po' controproducente gareggiare a certe percentuali di massa grassa senza integrazione sotto perché veramente forse fa più male che utilizzare l'integrazione quindi se decidete di affrontare un percorso di questo tipo ragazzi lo dico veramente col cuore fatelo con intelligenza e attenzione detto questo ho fatto un taglio rapido quindi subito sono sceso e nel primo mese mese e mezzo fino diciamo a metà giugno ho buttato subito giù i primi quasi 10 kg e devo dire che l'ho fatto veramente senza difficoltà senza mettere cardio soprattutto ve lo dico quest'anno per scelta non ho voluto inserire il cardio e devo dire che mi ha portato ad avere molto meno stress e a scendere molto più facilmente quindi io sono arrivato subito sui 92 91 kg con una condizione comunque già discreta nel senso che in questa prima fase diciamo non stavo supplementando ve lo dico non mi stavo integrando perché non avevo ancora iniziato la preparazione però comunque avendo una grossa percentuale di massa grassa sopra mi ha aiutato a mantenere comunque i volumi quindi sono partito e ho perso subito questi 10 12 kg in maniera rapida ho buttato giù liquido ho buttato giù via grasso e subito ho iniziato a prendere forma il mio corpo la performance in sala paradossalmente è migliorata perché perché soprattutto io soffro tantissimo il peso elevato nell'ultimo periodo affrontavo le sessioni di allenamento veramente con difficoltà mi sentivo goffo avevo difficoltà anche a fare una cosciata invece come ho iniziato a eliminare calorie eliminare grassi e a essere più asciutto soprattutto meno a gonfio la performance è schizzata alle stelle e questo mi ha portato anche a una ottima ricomposizione corporea quindi a volte se noi pensiamo che in cut perdiamo i carichi non è così se le cose le facciamo per bene addirittura possiamo anche ad alzarli è aperto e chiuso a parentesi ragazzi supportati o no se volete dei guadagni soprattutto se volete mantenere dei risultati ottenuti in off season sotto gara o anche in cut dovete allenarvi ancora meglio non esiste mollare la presa spingere di meno allenarsi di meno anzi dovete dare ancora di più in sala cercare di mantenere i carichi riducete il volume allenante al massimo ma i carichi in sala devono essere sempre portati ai massimi livelli questo ragazzi è veramente fondamentale non dimenticatelo quindi se volete mantenere i guadagni fate che ogni vostro allenamento sia come l'ultimo e vi assicuro che i guadagni e i risultati che otterrete saranno enormi io per chi mi segue sa sono una persona che in sala non si risparmia mai sia a 4000 calorie sia a 1600 calorie come sono adesso con o senza energie io cerco sempre di spremermi fino al midollo e questo comunque mi ha portato ad avere questo fisico comunque a mantenere questi volumi ad avere anche una discreta forza quindi questo è fondamentale in ogni caso dopo questo primo mese mese e mezzo in cui ho perso questi 10-12 kg è arrivata diciamo l'estate è arrivato un periodo dell'anno in cui comunque avevo bisogno mentalmente di rilassarmi perché comunque i kg iniziavano ad essere tanti la dieta era già avanzata da un mese e mezzo quindi per circa un mese fino più o meno a metà luglio fine luglio diciamo ho deciso anzi per sé anche inizio agosto per un mese più o meno di mantenere il peso quindi ho mantenuto più o meno le calorie sempre lì però ho aumentato magari qualche pasta libero in più estate qualche gelatino qualche sgarro extra con gli amici con la ragazza per godermi un po' di più l'estate anche perché le gare sulla carta non è ancora molto lontane io pensavo di fare la mia prima gara a bussolengo il 28 ottobre quindi immaginate luglio agosto settembre 4 mesi consenso che avevo già fatto un mese e mezzo due mesi di cut mi servivano altri due mesi circa di preparazione avevo tutto il tempo e non avevo ancora iniziato a prepararmi con l'integrazione quindi ho detto mi mantengo mi godo un po' l'estate e poi parto per la seconda fase verso inizio agosto invece ho iniziato la seconda fase in questa seconda fase ho inserito l'integrazione e ho ulteriormente abbassato le calorie ho eliminato i passi liberi e ho iniziato a scendere gradualmente qui ovviamente il corpo ha iniziato a cambiare di giorno e di settimana in settimana il peso ha iniziato a scendere e ha iniziato a buttare giù parecchi altri chili fino ad arrivare intorno agli 84 85 chili a inizio settembre qui la condizione era già ottima diciamo ero già tirato fisico asciutto definito bene abbastanza evidente ovunque un minimo d'acqua soprattutto sul back e sui glutei perché per la mia tipologia per il mio morfotipo io tendo ad accumulare molto di più acqua e liquidi e grasso sulla schiena e sul glutei anche ora che sono quasi alla fine della preparazione sono molto più tirato avanti che sul back infatti posso ancora scendere qualcosa però devo dire comunque che adesso la condizione è quasi estrema sul front praticamente non ho più pelle sul back ne ho ancora un minimo ma comunque la condizione è già ottima in questa fase ovviamente ho abbassato le calorie ma la performance e anche la fame era controllata nel senso che avevo sì fame però non avvertivo quell'eccessivo senso di stanchezza addosso anche perché facevo tre giorni di scarica a 150 carboidrati alternata a uno di ricarica a 350 sempre senza cardio allenamenti pesanti ogni giorno della settimana a volte anche con doppia seduta perché faccio un richiamo di femorali cerco di farlo due o tre volte a settimana perché mi risulta veramente utile per migliorare che è un distretto molto carente che ho rispetto il femorale rispetto agli altri e questo per esempio ho migliorato molto sia i quadricipiti sia i dorsali ma i femorali sono ancora carenti e quest'anno li dovrò martellare se li voglio portare a livello del resto del corpo dicevo in questa fase comunque sono sceso ma sono sceso comunque in maniera abbastanza tranquilla nel senso che sì minimo la stanchezza però nella vita di tutti i giorni ero ancora energico ero ancora attivo avevo ancora voglia di fare tutto quello che facevo normalmente senza grosse difficoltà la fase peggiore arriva nel momento in cui scendiamo sotto una soglia fisiologica di massa grassa che secondo me per quanto mi riguarda è intorno al 7 8% inizia a scendere sotto arriva al 6 al 5% e al 4 poi non lo so adesso precisamente a quanto sto penso di stare intorno al 5% 5-6% massimo in questa fase purtroppo il corpo inizia a mandare dei segnali inizia a mandare dei segnali dove diciamo non si sente più in salute si sente stanco inizia a essere letargico quindi cerca di minimizzare gli sforzi giornalieri ridotti al minimo quindi tutto ciò che ritiene non essere necessario cerca di non fartelo fare poi sta a te e qui la differenza fare anche ciò che non ti va di fare io per quello che faccio essendo un personal trainer comunque avendo anche un'attività sono comunque portato a muovermi tanto durante la giornata a uscire di casa la mattina e rientrare la sera quindi per forza di cose non potevo stare buttato sul divano e mi sono trovato comunque dei giorni e ancora adesso ve lo dico per esempio due giorni fa ho passato una giornata infernale dove praticamente ho trascorso più di mezza giornata tra cui anche con due personal dove mi andavo letteralmente buttando da una panca all'altra perché non avevo energie ieri invece paradossalmente che ho anche allenato le gambe è stata una giornata a parità di calorie abbastanza tranquilla in cui sono stato bene ho anche dormito bene mettiamola così perché aperta e chiusa parentesi anche qui il sonno è un parametro fondamentale che purtroppo specialmente in preparazione per molti soggetti e io ne sono un esempio diventa catastrofico io sono abituato tutto l'anno a dormire quelle otto ore di sonno continuo e profondo che mi fanno veramente tanto mi vado a trovare in una fase di cat in cui il sonno è disturbato dove comunque ho inserito degli integratori che mi portano andare più volte in bagno anche per il dimagrimento che mi aiutano nel dimagrimento esterni esogeni che mi portano quindi comunque ad alzarmi la notte e ad avere un sonno molto frammentato quindi con senso mi alzo sempre dormo male ovviamente ho i crampi perché mi sveglio perché sto morendo di fame io la mattina adesso alle 6 sono sveglio mi preparo il pancake perché ho una fame assurda la notte vado a dormire a mezzanotte mezzanotte e mezza ma ho difficoltà ad addormentarmi mi sveglio alle 2 alle 3 ogni ora quindi questa qualità del sonno scadente poi si ripercuote anche nella vita di tutti i giorni perché mi porta a essere più stanco perché ovviamente se non dormo come faccio ad avere energie e comunque le devo trovare perché mi devo allenare e devo continuare la preparazione quindi questa fase finale è diventata ovviamente molto molto difficile sono arrivato adesso che sono atti nel peso di 88 salito di 200 grammi ieri non so perché ma sono quasi in pesa perché dovrò andare in gara a pesare 80 kg alla prima gara poi faremo una reverse quindi andremo a risalire con le calorie cercando di tirarci ancora di più e riempire ancora di più il muscolo perché adesso comunque me lo vedo spento me lo vedo comunque un po' vuoto perché dopo settimane settimane di cut ora veramente sono facendo anche 5-6 giorni di fila di scarica a 100-150 con anche doppia seduta di allenamento sempre in piedi vi assicuro che per un soggetto che comunque anche se adesso ho peso 80 kg però stare a 1600 calorie non è assolutamente facile ma lo devo fare si vede anche dalla faccia che è abbastanza scavata resta il fatto che adesso in questa fase finale siamo quasi alla fine devo tirare un altro paio di giorni con una scarica poi inizieremo lentamente a ricaricare per questa gara dovrò mantenermi perché dovrò cercare di centrare il peso mentre dalle gare successive sicuramente potremo spingerci molto oltre con l'acceleratore non c'è trucco non c'è inganno c'è sicuramente tanta forza di volontà ragazzi questa è la prima cosa se pensate che l'integrazione vi permette di avere il risultato toglietevelo dalla testa chiunque pensa che basta integrare per avere il fisico dei sogni io vi invito a provarlo e capirete che non è così senza sacrificio senza impegno senza allenamento e dedizione totale a questa disciplina non andrete da nessuna parte con o senza integrazione quindi sappiate che se decidete di intraprendere qualunque tipo di percorso agonistico ma anche non di volervi trasformare dovrete fare dei sacrifici il sacrificio più sarà estremo più vi darà risultato e quindi in questo posso dire comunque di aver fatto un grande lavoro senza ombra di dubbio sicuramente l'integrazione ti dà quel quid in più per arrivare comunque nella condizione estrema che magari non potresti avere altrimenti ma se non ci metti l'impegno massimo se non curi l'alimentazione se non curi ogni minimo dettaglio della tua quotidianità è impossibile ottenere risultati quindi questo percorso è ottenibile da tutti no ma sicuramente con la forza di volontà si possono ottenere in 4 mesi 4 mesi e mezzo grandissimi risultati ora quello che voglio dire per chiudere sta a voi scegliere che tipo di fisico volete io consiglio sempre ai miei clienti di cercare di ottenere un fisico bello definito asciutto ma comunque in salute non dovete salire su un palco stare al 5% di massa grassa non è salutare non vi porta a nulla non vi darà nessun vantaggio quindi a cosa serve piuttosto cercate di mantenere un fisico anche tutto l'anno di un certo tipo ma fatelo con intelligenza in questo modo avrete comunque la possibilità di crescere di stare bene in salute di godervi la vita di non rinunciare anche a tanti eventi della vita quotidiana a tante uscite a tanti momenti anche con la fidanzata con gli amici che fanno la differenza detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto io penso di essere stato abbastanza onesto con voi senza troppi peli sulla lingua ovviamente nei limiti di ciò che posso fare però penso di avervi raccontato comunque un po' la storia di questi mesi una storia comunque difficile in alcuni momenti specialmente adesso anche nei rapporti interpersonali con gli altri perché è inutile dirvi che magari ho meno voglia di stare con gli altri di uscire riesco a stare più da solo mi nervosisco più facilmente perché come è giusto che sia non mangiando è anche più facile che per dare staff quindi preferisco anche isolarmi un po' di più questo purtroppo io non lo chiamo sport questo stile di vita come vogliamo chiamarlo ci porta comunque a fare delle scelte importanti e vanno contestualizzate anche nel periodo dell'anno ed è importante avere vicino persone che ci supportino o che almeno ci capiscano perché è normale che una persona che ti vuole bene non accetterà molto questo stile di vita ma deve comunque accettare il fatto che io ho deciso ho preso una decisione e voglio portarla avanti quindi mi deve rispettare perlomeno e se vuole starmi vicino perché mi vuole bene ok altrimenti andrò comunque per la mia strada quindi se decidete di intraprendere questo percorso circondatevi comunque di persone che siano positive per voi perché se vi danno negatività vi assicuro che diventerà ancora più difficile portare avanti una preparazione detto a ciò ragazzi vi ringrazio per avermi seguito vi rimando ai prossimi video e vi ricordo che nei prossimi appuntamenti vi porterò con me nelle gare che andrò a fare sperando di fare dei bei risultati dopo tutti questi sacrifici io sono molto contento della preparazione vedremo come andrà a finire e vi mando un grosso abbraccio alla prossima